Sono Riccardo Giglioli e vi do il benvenuto nel primo episodio di Storia dell'Arte in Planair o meglio, Rinascimento in Planair perché parleremo principalmente di questo. Allora, mi trovo in un boschetto che mi ricorda molto il boschetto in cui è ambientato il dipinto della Venere di Botticelli. Prima di parlare dell'opera però vorrei soffermarmi un po' sull'artista, su Sandro Botticelli, sulla mente che sta dietro all'opera. Botticelli innanzitutto si chiamava Alessandro Fililepi, Sandro Botticelli era solo uno pseudonimo, un nome d'arte. Quindi nasce a Firenze nel 1445 da una famiglia medio-borghese e inizia la sua carriera come orafo poiché all'epoca era prassi per chi volesse iniziare la carriera come pittore iniziare proprio con un apprendistato in una bottega orafa. Quindi finito questo apprendistato Botticelli intraprende la carriera come pittore passando nella bottega del fiorentino, del concittadino Filippo Lippi, pittore importantissimo nella Firenze della prima metà del Quattrocento da cui Botticelli apprese quella morbida linea di contorno che costituì uno dei tratti distintivi del suo stile. Appena cominciarono a circolare le prime opere di Botticelli, Lorenzo il Magnifico lo vola a tutti i costi a corte. Lorenzo il Magnifico che non era solo un gran politico, un grande uomo politico, ma era anche un gran intellettuale, quindi si legò sia dal punto di vista morale che dal punto di vista artistico a Sandro Botticelli con cui condivise un desiderio utopico, ovvero quello di trasformare Firenze in una nuova Atene. Le opere di Botticelli hanno un forte significato simbolico, tuttavia alcune simbologie non sono state ancora decifrate, ma è chiaro come questo approccio all'arte sia profondamente intriso di neoplatonismo. Neoplatonismo ovvero quella dottrina filosofica secondo la quale la bellezza, quindi l'amore, fossero intermediari tra Dio e l'uomo. Quindi secondo questa dottrina è la bellezza che innalza verso la contemplazione divina. Il cammino di ogni individuo non è altro che un'elevazione dal mondo mondano alla spiritualità attraverso la contemplazione della bellezza. In quest'ottica anche le divinità pagane vengono interpretate come simboli di questo percorso. Quindi assume particolare importanza Venere che rappresenta la bellezza. Venere è la dea della bellezza, dea della bellezza ideale, della bellezza spirituale, della bellezza che eleva. Venere che con Botticelli divenne il primo soggetto mitologico dell'arte italiana. A questo punto però deve esprimere un po' di delusione perché magari mi trovassi nel posto in cui è ambientata la primavera di Botticelli perché l'opera non è ambientata in un boschetto qualunque ma è ambientata nel giardino delle esperdi. Esperdi che erano delle divinità femminili che secondo la mitologia classica costudivano i pomi d'oro ovvero frutti in grado di donare l'immortalità. Frutti che nel rinascimento venivano rappresentati come delle arance. Quindi se noi immaginassimo di essere in questo giardino, nel giardino delle eridi, saremmo circondati da fanciulle danzanti. La loro danza sarebbe un insieme di movimenti leggiadri e sinuosi simili a quelli delle fanciulle danzanti ritratte da Lorenzetti nel Buon Governo. E tra queste fanciulle ne noteremo tre che alballano insieme, che sono le tre grazie. Tre grazie che rappresentano gli attributi di venero, ovvero la castità, la passionalità e la saggezza. Purtroppo non posso continuare oltre questa analisi ma mi devo spostare dentro in modo da visualizzare l'opera sul tablet in modo tale che chi mi ascolti riesca a vedere ciò a cui mi riferisco. Eccomi rientrato, adesso proseguo nell'analisi dell'opera. Prima però voglio fare una precisazione. Prima nel bosco ho avuto un lapsus, ho parlato di Venere, di Botticelli, ma in realtà l'opera a cui mi stavo riferendo era la primavera. Quindi chiedo perdono. Analizziamo l'opera. Analizziamo da destra verso sinistra. A destra abbiamo Zephyro. Zephyro che ghermisce fianchi di Clori, la ninfa Clori che si trasforma al tocco di Zephyro in Flora. Flora che è la dea della fecondità, dea della primavera, che viene rappresentata in un abito ricamato con motivi floreali. Poi in mezzo abbiamo Venere che va intesa come in senso neoplatonico, come dea della bellezza che leva l'uomo, che leva l'uomo alla spiritualità. Dietro Venere abbiamo un cespuglio, un cespuglio di Mirto, che rappresenta il matrimonio. Poi sopra questo cespuglio vediamo volare Cupido. Cupido che tende la sua freccia verso, tende l'arco indirizzando la freccia verso le tre grazie. Quasi inconsapevolmente perché vediamo che Cupido è bendato. E cosa ci vuol dire Botticelli bendando Cupido? Ci vuol dire che l'amore è cieco. Poi spostandoci sempre verso sinistra abbiamo le tre grazie. Tre grazie come dicevo fuori sono allegorie dei tre attributi di Venere, ovvero castità, passionalità e saggezza. Poi all'estrema sinistra abbiamo Mercurio. Mercurio che veste questi calzari alati e questo petaso, ovvero il copricapo dei viaggiatori, che fa uno strano gesto con la mano. Sembra quasi tenere un bastone con cui sposta le nuvole. Ecco, questo ci serve per capire il significato di tutta l'opera. Un significato che nel complesso non ci è ancora del tutto chiarito. Dai critici sono state avanzate diverse ipotesi e la più accreditata è che l'opera rappresenti la conquista della ragione, ovvero della virtù intellettuale per l'eccellenza, attraverso le diverse fasi, diversi aspetti dell'amore. E questo cammino si muove da sinistra verso destra, dall'amore carnale, con cui Zephyro ghermisce i fianchi di Clori all'amore più spirituale, all'amore neoplatonico incarnato da Mercurio, che è l'emblema della razionalità. Questo cammino però passa per una tappa intermedia, ovvero l'Humanitas, quindi la bellezza scaturita dall'incontro tra materia e spirito. e l'Humanitas è incarnata da Venere. Venere che rappresenta anche, in quanto dè dell'amore casto, il matrimonio. Quindi al centro, con Venere e il cespuglio di Mirto, abbiamo un simbolo complesso, ovvero il simbolo del matrimonio. Poi possiamo dire che tutto si è collocato in una struttura piramidale, no? che converge in Cupido. E poi c'è una grande attenzione per i movimenti. Le figure sembrano leggerissime, quasi fluttuare in questo giardino paradisiaco. Ecco, con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio di Rinascimento in Plan Air.